Benvenuti alla 25esima edizione del festival Monci d'Oro, 50 anni ed intorni, vediamo molti eccedivi in questa cornice straordinaria e impareggiata. Brilla come fossi una stella, e con la tua voce canterai tutto quel che sei. Balla, prendimi le mani e non staremo mai da soli, e sai perché? Voci d'oro c'è.